Ragazzi, una vittoria importante, 10-1, che vi proietta ancora di più in testa alla classifica. Datemi un vostro giudizio su quest'ultima partita. Abbiamo messo una buona intensità, però sicuramente la squadra avversaria non era comunque delle migliori. Basta. Io sono stato infortunato, quindi non ho potuto giocare la partita, ma i miei compagni sono stati molto bravi a interpretare bene la partita. Come ho detto già, gli avversari non erano un granché, però noi abbiamo dato di tutto e si vede dal risultato. Il primo posto in classifica, un obiettivo che avete inseguito per tutta la stagione, adesso si punta ad andare ancora avanti? Sì, si punta sempre più in su. Bisogneranno sbagliare le ultime due. Le ultime due partite, appunto, come vi concentrate per le prossime partite e qual è il vostro obiettivo alla fine della stagione? C'è l'enermo sempre allo stesso modo. Cosa ti auguri dalla fine della stagione? La vittoria del campionato. Anche i play-off, se per questo. Saliamo sempre di più.